Ritorna ad Uri la grande festa dedicata al carciofo. L'evento estivo, che si terrà venerdì 5 e sabato 6 agosto, è organizzato dalla Proloco, sostenuta dal comune di Uri, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Comercio di Sassari con il programma Salud Entriu. La Sagra 2022 rinnoverà il gemellaggio stretto nel 2018 con le comunità di Srebeniza, Polonia, e del comune di Abagna, Spagna. Le delegazioni arriveranno il giovedì sera per assistere ai due giorni di festeggiamenti e riprendere i contatti in questa opposta pandemia da ricostruire. Durante le due serate la Proloco proporrà diversi piatti a base di carciofo. I menù completi a 15 euro offriranno venerdì 5 agosto in Piazza della Libertà, lasagne, carciofi e purpuza, agnello con carciofi e patate, dolce tipico, pane, acqua e vino. Sabato 6 la cena sarà in Piazza Lisa, il menù completo sarà a base di ravioli con carciofi e purpuza, porchetta al profumo di mirto con carciofi in verde, dolce tipico, pane, acqua e vino. Non mancherà lo street food con le bancarelle delle Seadas di Andarinos di Usini. A chiudere la due giorni di manifestazioni, Itazenda. Il gruppo con Nicola Nitti alla voce, Gigi Camedda piano e voce, Gino Manilli chitarra e voce, arriverà a Duri con il suo tour Antistasis 2022. L'incontro tematico di venerdì 5 alle 17 racconterà l'importanza della cultura locale e di come la salvaguardia delle DOP garantisca le coltivazioni regionali. I cori di musica tradizionale e la fisarmonica di Giuseppe Cubeddu animeranno il venerdì sera dalle 19.30. Sul palco saliranno i gruppi folk Santa Rughe di Uri, Accademia Tradizioni Popolari di Tempio Pausania e Succarrazzo di Ghilarza. La giornata del sabato prenderà il via con la manifestazione podistica alle 17.30 e laboratorio di degustazione gratuita del formaggio a Casa Diaz. I bambini godranno dell'intrattenimento dei tricirco che venerdì e sabato dalle 19 alle 22 faranno divertire i più piccoli con giochi e attività e distribuiranno popcorn e zucchero filato.